Il viadotto Puleto lungo la E45 non rischia più il collasso anche grazie ai lavori effettuati da parte di ANAS. Queste le prime indiscrezioni che emergono dalla perizia depositata dal professor Claudio Modena. L'esperto incaricato dal GIP Pier Giorgio Ponticelli è chiamato a chiarire i dubbi sulla sicurezza dell'infrastruttura. I sigilli per il viadotto erano scattati a metà dello scorso gennaio. Il tratto era stato così chiuso al traffico, spaccando di fatto in due l'Italia. A fine febbraio la parziale riapertura al traffico leggero ma con una lunga serie di prescrizioni, tra cui due sole corsie di marcia e limite di velocità a 40 km orari. Era poi arrivato il via libera anche al traffico pesante ma solo entro le 30 tonnellate. Adesso, a seguito dell'esito della relazione del professor Modena, si potrebbe andare finalmente verso la riapertura completa del viadotto. L'esperto in questi mesi ha esaminato le parti ritenute più degradate del viadotto. Nella sua consulenza, che conta in tutto 35 pagine, alle quali si aggiungono numerosi allegati, spiegherebbe che, anche in virtù dei recenti interventi di manutenzione svolti da ANAS, non ci sarebbero più problemi di crolli o cedimenti. La procura di Arezzo, per le condizioni in cui versa il viadotto Puleto, ha iscritto nel registro degli indagati cinque tradirigenti e funzionari ANAS del compartimento di Firenze. L'accusa per loro è quella di omessa manutenzione. Tra gli indagati, il responsabile della manutenzione, Antonio Scalamandrè, il capocentro, Rocco Liviero, il caponucleo, Massimo Pinelli e il capocantiere, Luigi Sestini. La perizia del professor Modena, che avrà valore di incidente probatorio, adesso sarà discussa in aula il prossimo 25 ottobre, nel corso dell'udienza preliminare.